Gesù apparve a due dei discepoli. Tornarono gioiosi a dirlo agli altri. È vero che il Signore è risorto. È apparso a Simona. Non l'avevamo riconosciuto sulla strada di Emmaus. Ma quando ha spezzato il pane, l'abbiamo riconosciuto. Ad Emmaus, chissà perché è andato lì. La pace sia con voi. Perché siete così turbati? Perché nei vostri cuori si levano questi dubbi? Guardate, le mie mani ai miei piedi. Come vedete, sono proprio io. Toccatemi e lo capirete. Perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. Era proprio questo che vi dicevo quando ero ancora con voi. Che tutto quello che è stato scritto di me nella legge di Mosè e nei profeti e nei salmi si doveva compiere. Così sta scritto. Il Messia deve soffrire per risuscitare dai morti il terzo giorno. E nel suo nome, la conversione e il perdono dei peccati saranno predicati a tutte le nazioni, cominciando da Gerusalemme. Voi siete i testimoni di queste cose. E io manderò su di voi il dono promesso dal Padre mio. Ma voi rimanete in città, finché dall'alto non siate rivestiti di potenza. Grazie. 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 Grazie.